Ok, intanto che si riempie, la nostra sala d'attesa si sta state entrando. Io mi presento, sono Paolo Contremolesi, faccio parte dell'esecutivo di CDO Informatica e sono socio di Zetalab, una software house della provincia di Bergamo in cui mi occupo di vendite e marketing. Per quanto riguarda l'attività di novembre, in CDO abbiamo deciso di dedicarla alla sostenibilità delle imprese di servizi. Per farlo ci siamo fatte aiutare da Alba Chiara Boffelli, ricercatrice dell'Università di Bergamo, che non esatterei a definire specialista del settore. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Insieme a lei abbiamo preparato un percorso composto appunto dal webinar di questa sera, poi da un assessment che è in corso con alcune aziende ICP vicine all'esecutivo di CDO Informatica e poi di un webinar conclusivo che è stato fissato per il 30 novembre e a cui vi invito ovviamente a partecipare perché presenteremo i risultati di questo assessment e ascolteremo dalla viva voce dei protagonisti la loro esperienza in merito alla gestione della sostenibilità in azienda. Ok, per quanto riguarda alcune comunicazioni di servizio prima di passare la parola ad Alba Chiara, vi invito a porre le domande nella chat e poi avremo cura di rispondere rilanciandole ad Alba Chiara se serve e per quanto riguarda le slides saranno disponibili sul portale CDO insieme alla registrazione di questo webinar e quindi le troverete insieme nella documentazione di questo evento. Ok, direi che ci siamo, sono le 5 e 5, possiamo partire a te Alba Chiara. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia, grazie a Paolo per l'introduzione, grazie a CDO Informatica per l'invito, l'ospitalità, per aver organizzato questo webinar e per avermi coinvolta in questo percorso. In questo webinar appunto come diceva Paolo parleremo in particolar modo della sostenibilità ambientale e cercheremo di capire insieme quali sono le principali similitudini e le differenze che esistono tra le aziende manufatturiere e i servizi. Considerate questo come il primo step di un percorso che si svolgerà nel mese di novembre come vi raccontava Paolo poco fa e che quindi è proprio una prima occasione di confronto e di interazione tra di noi. In particolare il percorso a cui Paolo abbiamo cercato di riassumerlo in questa slide, questo è il primo incontro, è il primo webinar che riguarda appunto un'introduzione alla sostenibilità ambientale, una prima comprensione di similitudini e differenze tra aziende manufatturiere e aziende di servizi, un percorso di assessment che è già iniziato, che stiamo svolgendo proprio in questo periodo, in questo mese di novembre con quattro aziende del settore dei servizi e dell'ICT che serve soprattutto a noi come ricercatori per capire meglio quali sono le differenze, quali sono le specificità, le best practice in atto in questo settore e infine si terrà un secondo incontro previsto per mercoledì 30 novembre, quindi a conclusione di questo percorso di assessment con un webinar che abbiamo deciso di intitolare la sostenibilità ambientale nell'azienda dei servizi con divisione di best practices e casi di studio in cui riporteremo l'esito di questo percorso di assessment e durante il quale di fatto condivideremo anche alcune dei casi che siamo andati ad intervistare. Alcune delle aziende che stiamo coinvolgendo ancora non lo sanno che verranno coinvolte ma porteranno la loro viva esperienza, faremo anche un momento di interazione con le aziende e non solo un momento di restituzione da parte nostra dal punto di vista della ricerca. Venendo però al focus di questo incontro abbiamo pensato di partire proprio dal fondamento, cioè da dove deriva la sostenibilità, quali sono state le origini, proprio perché non siamo conoscenza del percorso che state affrontando all'interno delle vostre aziende e di qual è il vostro grado di conoscenza del tema, quindi cercheremo di accompagnarvi in tutto questo processo. Il tema della sostenibilità è un tema che ormai da un po' di anni è diciamo dibattuto e il momento in cui è stato formalizzato, se vogliamo, viene spesso fatto corrispondere al momento in cui è stata discussa con la Commissione Brutland, il World Commission on Environment in 1987 e qui è stata data la definizione di sviluppo sostenibile come quello sviluppo che va a incontrare i bisogni delle generazioni presenti senza però andare a compromettere l'abilità delle generazioni future di soddisfare i loro propri bisogni, quindi un'idea di lungo termine, di sostenibilità che può produrarsi nel tempo. E questo concetto di sviluppo sostenibile è stato declinato nel tempo su tre macropilastri. La sostenibilità economica è ciò che le aziende tendenzialmente conoscono molto bene, il fatto di poter generare un profitto con le proprie attività, ma è anche la capacità di contribuire alla società più a livello ampio, quindi creando posti di lavoro, creando una sostenibilità, un benessere economico anche all'interno della società e quindi di fatto la sostenibilità economica può essere vista anche da una prospettiva diversa di contributo che viene dato al progresso economico di una comunità, di un paese, di un sistema in generale. Il secondo pilastro è quello delle persone o people e quindi della sostenibilità sociale che riguarda la capacità di un'azienda o di un sistema di garantire le condizioni di benessere umano, quindi sicurezza, salute, istruzione e di far sì che queste condizioni di benessere siano in realtà anche equamente distribuiti, indipendentemente dalla classe, indipendentemente dal genere, indipendentemente anche dalla provenienza etnica. Infine, l'ultimo pilastro, che è quello su cui ci concentreremo in particolare in questo webinar, è quello del pianeta, quello della sostenibilità ambientale. In questo caso si parla di capacità dell'azienda o del sistema preso in considerazione di valorizzare l'ambiente come elemento distintivo del territorio, garantendo però anche la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e la possibilità di non esaurire le risorse che abbiamo a disposizione, ma appunto di mantenerle e lasciarle, se non intatte, quantomeno ancora disponibili per le generazioni fusate. Un tema importante da sottolineare è il, scusate, riguarda il fatto che la sostenibilità molto spesso è un concetto che viene frainteso, in quanto vengono definite tante altre parole parallelamente a quella della sostenibilità che sono ad essa collegata. Spesso la sostenibilità viene intesa come il fatto di essere legale, quindi il fatto di operare nel rispetto della legge e molto spesso, soprattutto alcune aziende, si mettono nell'ottica di fare solo ciò che viene legalmente, che è compatibile con la legge, quindi fare ciò che è richiesto, si limitano a fare ciò che viene richiesto loro dalla legge. Lo step successivo, o se volete un altro tassello che si aggiunge al concetto di sostenibilità, è l'eticità, quindi il fatto di operare con integrità, fare ciò che è considerato essere giusto, non solo legale, ma anche giusto nel rispetto del proprio senso etico. Il terzo step, il terzo tassello è il fatto di essere responsabili e anche questo è un concetto che rientra nel concetto più ampio di sostenibilità e consiste nell'operare in modo responsabile, fare più del bene e meno del male, quindi contribuire in modo positivo all'ambiente, alla società e in generale ad essere più sostenibili e cercare di danneggiare il meno possibile l'ambiente e la società. Ma essere sostenibile include tutti questi step, ma va anche oltre, perché significa operare nel rispetto dei limiti naturali e sociali e pensare anche nel lungo termine, quindi fare qualcosa che dura nel tempo e questo significa essere sostenibili, non solo essere legali, quindi operare nei limiti della legge, essere etici, quindi operare secondo un proprio senso etico e una propria sensibilità ed essere responsabili, quindi cercare di fare del bene al prossimo e alla società e all'ambiente e fare meno del male, ma anche fare qualcosa in più, qualcosa che duri nel tempo, qualcosa che operi nel rispetto dei limiti naturali. Questo concetto di operare nel rispetto dei limiti naturali si lega bene al tema dell'impronta ecologica. L'impronta ecologica o ecological footprint, sustainability footprint, vengono usati vari termini e molto spesso si trova nella declinazione inglese, è definito dal Global Footprint Network come una misura della quantità dell'area di terra biologicamente produttiva e di acqua che un individuo, una popolazione o un'attività richiedono per produrre tutte le risorse che consumano e assorbono e assorbire i rischi che genera. Quindi è un concetto che può essere declinato su diversi livelli, a livello di individuo, di singola persona, a livello di popolazione, quindi di comunità, di individui, ma anche a livello di attività e quindi di impresa. Viene solitamente misurata in un'unità di misura che è quella degli etteri globali, proprio perché si parla di area di terra o area, diciamo, di acqua e proprio per il motivo, proprio per il fatto che siamo ormai in un mondo globalizzato e iperconnesso, per cui un'attività che svolgiamo qui in Italia ha un impatto anche su altri paesi del mondo, l'impronta ecologica per sua natura è considerata globale, quindi l'impronta che io come persona genero ha un impatto su anche altri paesi, quindi ha un impatto su terra e mare di tutto il mondo. Quindi io potrei anche consumare più risorse anche di altri paesi rispetto a quelli che vado a produrre. Il quadro è particolarmente, diciamo, negativo e particolarmente demoralizzante quando si va a confrontare la biocapacità del nostro pianeta Terra rispetto all'impronta ecologica, quindi rispetto all'impatto che le nostre attività vanno a generare. E se guardate questo grafico vedete come la biocapacità del mondo è rappresentata da questa linea nera e questa è stata superata dall'impronta ecologica, quindi dal consumo che noi facciamo con le nostre attività addirittura nel 1970. Già nel 1970 l'impronta ecologica era superiore rispetto a ciò che il mondo poteva offrirci e non siamo mai riusciti a rimanere al di sotto. Questa situazione è andata peggiorando di anno in anno e vedete come questo andamento dell'impronta ecologica è strettamente collegato all'aumento della popolazione, quindi più siamo e più consumiamo, più risorse, di più risorse necessitiamo. E questo è un trend che ad oggi non è ancora stato invertito, ma che bisogna cercare di invertire il più possibile trovando un modo efficace per farlo senza ovviamente intaccare il benessere delle persone. Se guardiamo il quadro generale, il quadro d'insieme del nostro pianeta Terra, ci sono alcuni paesi che sono dei consumatori di risorse, hanno una biocapacità molto minore rispetto alle risorse di cui necessitano per vivere secondo gli standard che adottano e altri paesi che invece sono dei contributori, sono dei creditori, loro forniscono più risorse rispetto a quelle che vanno a consumare, quelle che richiedono per svolgere le loro attività. Ovviamente il nostro paese, l'Italia, è uno dei paesi rossi, è uno dei paesi che ha un'impronta ecologica molto superiore rispetto alla biocapacità e le risorse che noi riusciamo a produrre, nonostante l'Italia sia comunque un paese abbastanza ricco di risorse. Un altro dato interessante riguarda quello del Country Overshoot Day. È il giorno che viene calcolato sempre dal Global Footprint Network in cui le risorse del mondo vengono consumate nel caso in cui tutti operassero e consumassero risorse nelle modalità in cui uno specifico paese si comporta. Quindi ad esempio il Global Overshoot Day, la data precisa in cui, noi come popolazione mondiale abbiamo esaurito tutte le risorse, quest'anno è stato il 28 luglio. Il 28 luglio, quindi il 28 luglio noi abbiamo consumato tutte le risorse che abbiamo prodotto in un anno. Dal 28 luglio in poi siamo andati di fatto a debito. Se guardiamo il caso dell'Italia, l'Italia si trova in particolare, adesso ve la trovo, scusatemi, eccola qui, il 15 maggio, alla pari di Cile e Bahamas. Quindi l'Italia il 15 maggio ha consumato tutte le risorse che ha prodotto in un anno, che produce in un anno. Quindi ancora non aveva finito di produrre le proprie risorse e già le aveva consumate tutte. Quindi diciamo che siamo addirittura messi peggio rispetto alla media mondiale. Questo non è un quadro particolarmente positivo, ci dà l'indicazione che dobbiamo fare qualcosa per cambiare. Quindi siamo partiti dalla visione pessimistica, proprio per far capire a tutti quanto ci sia bisogno di cambiare prospettiva e di fare qualcosa in un modo diverso. Il problema, per il quale spesso non si riesce a fare qualcosa, soprattutto nelle attività aziendali, è che spesso la sostenibilità viene percepita come un peso. Queste sono frasi prese da interviste con aziende reali, quindi non sono frasi inventate da me o degli slogan che possono essere presi come veritieri, sono state dette da aziende anche piuttosto grandi. Le citazioni sono tratte da un articolo dell'Harvard Business Review, quindi sono aziende tendenzialmente americane. E molti di voi probabilmente si rivedranno in alcune di queste frasi. Rendere le nostre attività sostenibili, sviluppare i prodotti verdi, green, sostenibili, ci pone in una posizione di svantaggio rispetto ai rivali nei paesi in via di sviluppo, perché loro non devono affrontare le nostre stesse pressioni. E questo è qualcosa che si è visto, ad esempio, all'ultima COP, la COP26, in cui non sono stati stanziati i finanziamenti che erano richiesti per riuscire ad aiutare i paesi in via di sviluppo a diventare più sostenibili immediatamente, senza effettuare tutti gli step che noi, paesi sviluppati, abbiamo già affrontato avendo un impatto significativo sul mondo. Una seconda frase riguarda i fornitori. I fornitori non possono fornire input ecologici o essere trasparenti, fornirci trasparenza sulle loro attività. Quindi questo è un altro luogo comune che spesso si sente ancora oggi, nonostante questo articolo fosse del 2009. La produzione sostenibile richiederà nuove attrezzature e processi e quindi nuovi investimenti. I clienti non pagheranno di più per prodotti ecologici durante una recessione, quindi ci si aspetta che i clienti non siano ancora pronti a pagare di più per prodotti e per servizi che siano più sostenibili. Quindi di fatto l'azienda ad oggi si trova ad affrontare questi luoghi comuni, queste problematiche come un peso e si trova tirata da governi, da attivisti, da consumatori che chiedono di essere più sostenibili senza però riconoscere un vantaggio o un benefit per l'azienda che si impegna in questa direzione. E quindi cosa possiamo fare? Quale potrebbe essere il modo di cambiare attività senza essere penalizzati nei confronti di aziende che invece non lo stanno facendo? Questa è una bella domanda a cui cercheremo di trovare risposta anche con questo percorso che stiamo pensando. Oltre a queste problematiche, dobbiamo pensare però che ad oggi ci sono una serie di spinte sia esterne sia interni ad essere più sostenibili. Quali possono essere le spinte esterne? Sappiamo che ci sono una serie di finanziamenti che la Commissione Europea e a sua volta l'Italia mettono a disposizione per implementare soluzioni più sostenibili. La Commissione Europea ha definito nel 2019 lo European Green Deal. Questo è stato declinato dal governo italiano nel PNRR con questi due numeri di fatto che vedete che vedete in questa slide. La transizione ecologica all'interno del PNRR rappresenta il 37,5% dei fondi, una quantità che è addirittura superiore rispetto a ciò che richiedeva la Commissione Europea. Quindi ci sono a livello strategico, a livello di paese degli impegni nel finanziare le attività, le strategie più sostenibili. Dall'altro lato ci sono tutta una generazione di consumatori e non solo consumatori ma vedeteli anche come potenziali dipendenti che chiedono alle aziende e non solo alle aziende ma anche ai governi di fare qualcosa verso una sostenibilità. Queste generazioni sono tendenzialmente più aperte, più disponibili a pagare di più per prodotti più sostenibili. Così come queste generazioni saranno i vostri dipendenti di domani che vorranno lavorare per un'azienda più sostenibile. Giusto per farvi un esempio quest'anno tengo un corso legato alla sostenibilità qual era la gestione della supply chain in modo sostenibile e ho chiesto ai miei studenti quindi studenti di 22-23 anni se nel scegliere tirocini o post di lavoro potenziali opportunità di lavoro tenessero in considerazione anche l'aspetto della sostenibilità e la maggior parte di loro mi ha detto che sì effettivamente loro verificano se l'azienda per cui stanno andando a lavorare ha delle iniziative per diventare più sostenibile e ha una particolare attenzione alla sostenibilità. Quindi questo è assolutamente un aspetto da prendere in considerazione. Oltre a queste spinte esterne ci sono una serie di spinte interne in questa slide vedete una serie di news una serie di motivazioni che possono spingere un'azienda a diventare più sostenibile l'aumento dei costi delle materie prime e l'aumento dei costi dell'energia questo spingono a trovare alternative a utilizzare ad esempio energia rinnovabile ad utilizzare materie prime e secondi provenienti dall'economia circolare e da materie prime che siano riciclate per non parlare di tutto il problema della crisi dei semiconduttori dei chip che hanno interrotto una serie infinita di supply chain e immagino che per il settore dei servizi questo sia un problema particolarmente sentito e particolarmente significativo quindi diciamo che ci sono anche spinte proprio legate a come si gestiscono le attività interne all'azienda per diventare più sostenibile per iniziare a mettere in discussione ciò che è stato fatto fino adesso quindi se volessimo sulla base di quanto vi ho raccontato fino adesso costruirci il business case della sostenibilità quindi una motivazione per la quale dovremmo tutti essere più sostenibili all'interno delle nostre attività di business e le nostre attività aziendali questi sono alcuni sono solamente alcuni esempi su cui vi invito ovviamente a fare altri esempi o a dirmi se non siete d'accordo il primo riguarda il fatto che la sostenibilità può guidare il vantaggio competitivo perché spinge a coinvolgere gli stakeholder fare sostenibilità ad oggi significa anche costruirsi delle matrici di materialità cercare di capire quali sono i topic che sono più importanti per i nostri stakeholder la sostenibilità ci spinge a orientare le nostre attività verso i bisogni degli stakeholder non solo clienti ma anche tutti gli stakeholder in modo diciamo in tutti i portatori di interesse in senso più esteso della nostra azienda fare sostenibilità introdurre concetti di sostenibilità nella nostra azienda tendenzialmente migliora la gestione dei rischi perché non essere sostenibile ad oggi ci sporrà probabilmente a dei rischi nel prossimo futuro e vedremo tra poco anche alcune direttive nuove della Commissione Europea che ci imporranno nei prossimi anni soprattutto alle aziende di grandi dimensioni di diciamo rendere visibili quali sono le nostre iniziative e il fatto che le nostre iniziative siano sostenibili la sostenibilità tendenzialmente stimola l'innovazione perché significa fare le cose in modo diverso trovare nuovi modi di svolgere i processi trovare nuove idee per vendere prodotti e servizi che siano più sostenibili e andare incontro a diciamo a necessità dei clienti nuove la sostenibilità permette di migliorare le performance finanziarie tendenzialmente ci sono una serie di studi infiniti ormai in letteratura che dimostrano come aziende più sostenibili tendenzialmente riescano ad ottenere migliori performance finanziarie ma non solo anche ad avere migliore accesso ai crediti perché ad oggi le banche ma anche possibili investitori verificano quanto l'azienda in cui sono interessate a investire o sono interessate a finanziare sia effettivamente sostenibile proprio perché aziende più sostenibili tendenzialmente sono meno esposte ai rischi e sono più affidabili la sostenibilità tendenzialmente rafforza la fedeltà dei clienti proprio perché li coinvolgiamo maggiormente tramite lo coinvolgimento degli stakeholder e cerchiamo di ascoltare maggiormente le loro richieste le loro necessità e infine la sostenibilità come dicevamo prima attrae e coinvolge i dipendenti fare sostenibilità significa cambiare completamente la cultura aziendale verso un approccio che prende in considerazione sia rispetto dell'ambiente sia rispetto dei collaboratori e quindi di riflesso i collaboratori saranno più soddisfatti avranno un miglior welfare un miglior diciamo un miglior luogo di lavoro e saranno più contenti tendenzialmente di lavorare per la nostra azienda per diciamo definire quali che possono essere i nostri obiettivi aziendali per quanto riguarda la sostenibilità di fatto non dobbiamo andarci a inventare nulla possiamo andare a verificare alcune linee guida che sono state condivise sono state definite dalle Nazioni Unite avrete probabilmente in molti sentito parlare degli obiettivi di sviluppo sostenibili o sustainable development goals questi obiettivi possono essere utilizzati anche per guidare le nostre strategie di miglioramento verso la sostenibilità e qualora siete interessati vi invito anche ad andare ad esplorare il sito del UN Global Compact in cui potete verificare anche i report che sono forniti dalle altre aziende potete verificare come fare come approcciare questo questo percorso verso la sostenibilità e verso la definizione di obiettivi sostenibili trovate anche una serie di indicazioni su come fare il reporting di ciò che fate e so che molte delle vostre realtà in realtà sono già molto attive a livello di sostenibilità quanto meno sociale e anche la sostenibilità sociale è una grande parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile questi obiettivi per fare un po' di storia sono stati definiti nel settembre 2015 e di fatto è una cosiddetta agenda 2030 2030 agenda 2030 una serie di obiettivi che le nazioni parte delle Nazioni Unite 193 stati membri si sono prefissati per con l'obiettivo di raggiungerli nel entro il 2020 e il 2030 già ad oggi si sa che sarà impossibile raggiungere questi obiettivi in tutti i paesi del mondo in tutti gli stati membri ma avviare un percorso aiuta comunque a fare alcuni passi iniziare a muoversi verso il raggiungimento di questi obiettivi poi ovviamente i target dovranno essere rivisti all'approcciarsi del 2030 siamo nel 2022 quindi già ci stiamo ci stiamo avvicinando ci stiamo già muovendo verso il il medio termine ecco una problematica che non ha permesso probabilmente alle aziende di iniziare a rendere sul serio questi obiettivi di sviluppo sostenibile era l'orizzonte temporale un orizzonte temporale dal 2015 quando sono stati definiti al 2030 è un orizzonte temporale estremamente lungo che le aziende probabilmente non hanno saputo affrontare non hanno saputo percepire come reale e quindi questa è probabilmente la principale critica che è stata fatta agli obiettivi di sviluppo sostenibile e al fatto che potessero essere effettivamente implementati e realizzabili all'interno delle aziende la visione delle Nazioni Unite che è stata definita nel 2015 nel momento in cui questi obiettivi sono stati enunciati è quella enunciata in questa slide stiamo tutti d'accordo su dove deve andare il mondo quindi siamo tutti d'accordo su quali sono gli obiettivi soddisfare questa emissione richiederà uno sforzo senza precedenti da parte di tutti i settori della società e le imprese devono svolgere un ruolo molto importante nel processo quindi le imprese le aziende sono state menzionate esplicitamente in questo quadro di riferimento tant'è che sul sito del UN Global Compact trovate anche una serie di principi che sono specifici per le imprese quindi che declinano questi obiettivi di sviluppo sostenibile nel contesto delle imprese quindi nel contesto del business giusto per ricapitolare quali sono questi obiettivi qui trovate la figura famosa degli obiettivi di sviluppo sostenibile e vedete che non si tratta solo di obiettivi di sostenibilità ambientale ma di obiettivi di sviluppo in generale quali anche sviluppo dal punto di vista sociale sconfiggere la povertà sconfiggere la fame piuttosto che acqua pulita e servizi genico-sanitari sono tutti diciamo obiettivi che possono essere declinati anche a livello di sostenibilità sociale istruzioni di qualità parità di genere salute e benessere invece ci sono poi degli obiettivi che sono più propriamente legati alla sostenibilità ambientale energia pulita accessibile lotta contro il cambiamento climatico la vita sotto l'acqua la vita sulla terra così come anche obiettivi che sono più legati alle partnership e alla collaborazione per il raggiungimento condiviso di questi obiettivi ad esempio partnership per gli obiettivi e ci sono alcune alcuni obiettivi che sono più propriamente legati alle imprese imprese innovazioni infrastrutture produzione consumo responsabili e la cosa importante da sottolineare è che non si tratta di obiettivi che una singola entità una singola azienda può raggiungere da sola ma si tratta di obiettivi che vanno raggiunti in modo condiviso quindi quando vedremo degli esempi di azioni che le imprese e le manifatturiere hanno fatto provate a pensare anche come le aziende di servizi possano andare a supportare queste aziende manifatturiere nel loro percorso verso una maggiore sostenibilità perché è un interesse di tutti andare in questa direzione sempre parlando di livello europeo la commissione europea ha anche definito una direttiva ha approvato una proposta a febbraio 2022 quindi molto recente una direttiva per la due diligence sulla corporate sustainability questo significa che alcuni gruppi di imprese saranno obbligate a rendere a fare disclosure a rendere disponibili le informazioni su le loro iniziative sostenibili quindi ad esempio a realizzare un report di sostenibilità e quindi a raccogliere anche informazioni e dati per poter realizzare questo tipo di reportistica e in particolare c'è un primo gruppo di aziende che sono le aziende di grandissime dimensioni con più di 500 dipendenti più di 150 milioni di fatturato dove per fatturato si intende nel caso di aziende dell'Unione Europea il fatturato mondiale realizzato quindi siccome loro hanno diciamo la residenza fiscale nell'Unione Europea si considera tutto il fatturato non solo il fatturato realizzato nell'Unione Europea mentre nel caso di aziende che risiedono al di fuori dell'Unione Europea anche queste se il fatturato che realizzano in Unione Europea è superiore ai 150 milioni di fatturato in quel caso dovranno sottostare alla nuova direttiva e qui trovate anche il link poi lo vedrete nelle slide quando le riceverete la Commissione Europea ha fatto una stima di quante aziende saranno interessate da questa nuova due diligence e più di 9400 aziende e 3400 aziende per il secondo gruppo all'interno dell'Europa saranno interessate da questa iniziativa quindi immaginate quante aziende dovranno adeguarsi per raccogliere dati relativi alla sostenibilità e per poter fare reportistica su queste tematiche per quanto riguarda il secondo gruppo si tratta di aziende diciamo sempre grandi ma un po' più piccole rispetto a quelle del primo gruppo hanno 250 dipendenti e almeno 40 milioni di fatturato e sono operanti in settori ad alto impatto ad esempio test di agricoltura estrazione di minerali ma ce ne sono altri definiti all'interno della direttiva in questo caso le regole siccome per queste aziende è stato riconosciuto come più difficile l'applicazione verranno applicate due anni dopo rispetto al gruppo quindi per il gruppo 1 queste regole entreranno in vigore a partire dal 2025 per il gruppo 2 a partire dal 2027 attenzione perché non è finita qui in realtà le piccole e medie imprese riceveranno comunque un supporto è previsto comunque un supporto per le piccole e medie imprese da parte di questa direttiva perché questa proposta fornisce anche delle misure a supporto delle piccole e medie imprese che verranno impattate dalla direttiva per la due diligence proprio perché alcune aziende grandi che dovranno mettere in atto questa due diligence e fornire un record di sostenibilità richiederanno ai propri fornitori e a una serie di aziende che grandi non sono quindi piccole e medie di fornire una serie di dati e di informazioni per poter dimostrare che tutta la loro filiera è sostenibile se volessimo fare una sintesi di quali possono essere i principali stadi per effettuare questo percorso di cambiamento verso la sostenibilità il primo step è sicuramente iniziare a capire che questa compliance che questa ad esempio aderire a questa due diligence è in realtà un'opportunità muoversi prima diventa un'opportunità per capire come fare e per cercare di indirizzare anche la regolamentazione in una direzione che è fattibile per le aziende se non proviamo a capire come sia realizzabile questa due diligence in anticipo non saremo nemmeno in grado di avere voce in capitolo e di dimostrare che magari non è fattibile realizzare ciò che la Commissione Europea ci sta chiedendo il secondo step riguarda rendere la value chain sostenibile quindi nel momento in cui capiamo che è un'opportunità e al nostro interno ci rendiamo diciamo responsabili e sostenibili a quel punto dobbiamo estendere la riflessione a tutta la value chain quindi ai nostri clienti e ai nostri fornitori e questo è un percorso classico che chi ha già iniziato a occuparsi di sostenibilità sta già facendo quindi molto probabilmente anche voi aziende di servizio aziende di informatica vi state rendendo conto che vi stanno arrivando richieste di dimostrare quanto siete sostenibili al vostro interno da parte di vostri clienti lo step successivo è quello di progettare prodotti e servizi sostenibili proprio per diciamo per trarre vantaggio per cogliere questa opportunità e rendere la sostenibilità un'offerta verso i propri clienti verso il proprio mercato lo step successivo riguarda lo sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili in questo caso l'economia circolare piuttosto che la servitizzazione sono modelli di business che sono per loro natura più sostenibili e che permettono di diciamo di generare un'offerta che sia sostenibile che sia sostenibile senza andare a riprogettare completamente i prodotti e i servizi quindi bisogna anche pensare a nuovi modelli di business e cambiare il modo in cui offriamo i prodotti sul mercato infine l'ultimo step che onestamente non ho ancora visto realizzato nella realtà è la creazione di piattaforme di condivisione per le pratiche del futuro ad esempio piattaforme che facilitino la simbiosi industriale in cui risorse sprechi di un determinato settore di una determinata azienda possono diventare risorse per un'azienda in un settore completamente diverso e qui non ci siamo ancora arrivati però diciamo che c'è un processo di cambiamento questo è solamente l'ultimo step in cui si passa da un'ottica competitiva a un'ottica collaborativa per raggiungere la sostenibilità proprio parlando di sviluppo di modelli di business sostenibile un esempio classico è quello dell'economia circolare e proprio sull'economia circolare si è basato un assessment che abbiamo fatto nell'ambito dell'azienda e manifatturiere di cui vorrei raccontarvi diciamo l'esperienza proprio per farvi vedere come un assessment può aiutare le aziende a capire quali sono punti di forza punti di debolezza e possibili strategie di miglioramento giusto per ancora una volta essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda cosa si intende per economia circolare di fatto il concetto di economia circolare è stato definito ed è approfondito dall'Ellen MacArthur Foundation ed è definito come un sistema economico che viene pianificato fin dall'inizio per riutilizzare i materiali che possono essere classificati in biologici quindi flussi biologici che sono quelli verdi in questa slide o tecnici quindi flussi blu in questa slide e l'obiettivo è riutilizzarli in continui cicli produttivi riducendo al massimo gli sprechi e massimizzando il valore delle risorse impiegate quindi l'economia circolare consiste nel generare continui loop per non sprecare mai alcun tipo di risorsa che può uscire dalla nostra diciamo catena lineare quindi è un cambiamento importante di paradigma l'economia circolare di fatto passa per tre livelli l'utilizzo e la realizzazione di prodotti che siano più smart che quindi siano pensati per rifiutare di utilizzare risorse dannose per ripensare la progettazione del prodotto per ridurre il più possibile l'utilizzo di risorse vergine utilizzare il più possibile risorse riciclate il secondo step per cui passa l'economia circolare è l'estensione della vita utile dei prodotti e quindi si può pensare di riutilizzare i prodotti nel momento in cui giungono a fine vita in un settore diverso ad esempio riparare i prodotti ricondizionarli riprocessarli riqualificarli e il terzo il terzo livello riguarda il riciclo e il recupero le applicazioni innovative dei materiali e probabilmente voi aziende di servizi starete pensando come posso applicarli nella mia realtà io non produco un prodotto produco semplicemente un servizio offro un servizio offro una soluzione un software alla mia azienda cliente in realtà potete supportare le vostre aziende e clienti nel rendere fattibile questo tipo di transizione ma anche nel ripensare le attività che fate al vostro interno sicuramente l'estensione della vita utile dell'hardware che usate all'interno dell'azienda è qualcosa che potete fare anche nel vostro piccolo nonostante questo non sia il vostro core business le aziende manifatturiere noi abbiamo chiesto anche come il digitale possa diventare un facilitatore dell'economia circolare ed è proprio qui che le aziende di servizio dell'ICT possono entrare in gioco perché sono proprio su questi elementi su queste tecnologie che aziende del settore informatico possono in realtà andare a contribuire sviluppando soluzioni qui ci sono solo alcuni esempi di come alcune tecnologie possano supportare l'economia circolare ad esempio big data analytics possono aiutare con il controllo continuo dei processi o con la previsione dei guassi e passando da una manutenzione che sia programmata a una manutenzione invece predittiva la cloud l'utilizzo del cloud questo permette di condividere informazioni in tempo reale e dematerializzare quindi non avere più diciamo etichette cartacee banalmente quindi anche su questo si può cercare di dare un supporto l'internet of things quindi pensare di avere prodotti che siano smart connessi in rete che permettano all'alto degli agnosi la tracciabilità al controllo remoto queste sono tutte soluzioni che le aziende manifatturiere stanno cercando e che hanno intenzione di applicare e che possono supportare la transizione verso l'economia circolare il progetto di cui vi racconterò oggi è un progetto denominato Circular 4.0 che ha ricevuto un finanziamento al Pinspace quindi dalla Commissione Europea e è stato coinvolto direttamente Confindustria noi come Università di Bergamo siamo stati coinvolti come esperti nel settore della sostenibilità e della Circular Economy qualora foste interessate ad approfondire diciamo questo progetto si trovano tutti i dati all'interno del link che troverete in slide di fatto l'obiettivo era quello di sensibilizzare policy makers intermediari e piccole e medie imprese sui concetti della Circular Economy e di come questa sia abilitata la trasformazione digitale e ciò che è emerso di interessante lo vedremo nelle prossime slide è che effettivamente la trasformazione digitale le tecnologie possono svolgere un ruolo importante in questa transizione abbiamo intervistato moltissime aziende 16 aziende del territorio principalmente bergamasco qui trovate i diversi loghi e sono tutte aziende manifatturiere per quanto riguarda la distribuzione in termini di dimensione la maggior parte delle imprese erano piccole e medie proprio perché l'obiettivo era supportare le PMI ma abbiamo coinvolto anche qualche grande impresa per capire quali potessero essere le best practice e se effettivamente una grande impresa fosse facilitata nell'implementazione dell'economia circolare la risposta è stata che anche le grandi imprese hanno spesso le stesse problematiche delle piccole e medie e sono spesso anche molto meno agili nell'introdurre nuovi progetti di economia circolare in termini di settore abbiamo coinvolto svariati settori vedete la distribuzione all'interno del campione abbiamo coinvolto in particolare aziende del tessile abbigliamento del settore del legno chimica plastica meccanica e lavorazioni meccaniche elettronica arredamento altre aziende manufatturiere ma anche packaging e quindi abbiamo coinvolto aziende di settori svariati proprio per capire se il settore fosse una variabile rilevante a questa azienda abbiamo chiesto quanto i loro fornitori clienti fossero distanti e abbiamo riscontrato che per il 56% dell'azienda la maggior parte del fatturato era all'interno dei 200 km quindi piuttosto locale il 44% dell'azienda aveva un fatturato al di fuori dei 200 km e allo stesso modo il 69% dell'azienda aveva una catena di fornitura all'interno del raggio dei 200 km e il 31% oltre i 200 km quindi vedete che la catena di supply chain è di fatto piuttosto locale per queste aziende soprattutto dal punto di vista delle forniture il che è un vantaggio perché permette di stimolare la collaborazione per la circular economy in termini di maturità digitale queste aziende hanno un grado di maturità digitale almeno medio quindi hanno già una connettività standard e una manutenzione prevalentemente autonoma dei sistemi IT alcune di queste sono anche addirittura a un livello alto e vedete che non c'è una grande preponderanza di grandi imprese rispetto alle medie e in termini di quanto le tecnologie vanno a supportare l'economia circolare una quantità di risposte una percentuale di aziende ha detto comunque in misura minore e sono anche le aziende però che hanno implementato a livello basso o medio una quantità pari al 17% al 14% ha risposto in misura notevole ma una grande quantità di aziende ha risposto in una misura predominante nessuno ha detto che la tecnologia non supporta per niente la transizione verso l'economia circolare che è un ottimo risultato abbiamo dato qualche indicazione a queste aziende su come possono sfruttare meglio il digitale per abilitare la transizione circolare da un certo punto di vista possono iniziare a fare scouting di tecnologie migliorare la tracciabilità migliorare la tracciabilità abilita anche la migliore trasferimento di informazioni digitalizzare il know-how sul processo sistematizzare la raccolta dati sfruttare i dati raccolti per valutare opportunità di simbiosi industriali e sono tutti suggerimenti che di fatto possono trovare risposta in soluzioni che siano fornite da aziende del settore dei servizi dell'ICT abbiamo chiesto alle aziende quale fosse il loro obiettivo principale nell'organizzazione nell'affrontare l'opportunità circolare e ci hanno risposto da un lato la progettazione circolare di prodotti e servizi ma anche il recupero del valore mentre l'uso ottimale del prodotto servizio macchina non è per loro l'obiettivo principale la motivazione che ha spinto queste aziende a iniziare una transizione circolare è in particolar modo la vision dell'organizzazione quindi c'è stato un processo probabilmente top down in cui il management ha spinto tutta l'azienda a diventare a iniziare questo percorso verso la transizione circolare sostenibile in termini di barriere vedete che la maggior parte dell'azienda ha risposto ampiamente il tema delle barriere legali quindi ci sono delle problematiche soprattutto nel riciclo degli scarti di produzione ma anche alcune barriere di mercato e barriere con gli attori a valle della supply chain quindi con i loro clienti è interessante notare come non ci siano grandi differenze tra aziende piccole e medie grandi se non per le barriere di mercato quindi le aziende grandi sono quelle che hanno maggiore difficoltà paradossalmente a entrare diciamo a superare delle barriere legate al mercato e ai loro clienti grazie a queste risposte siamo riusciti a fare un assessment a monitorare il posizionamento di queste aziende e a classificarle in quattro aree le aziende cosiddette disinteressate verso la transizione circolare coloro che sono inattive quindi che hanno una grande potenzialità del modello di business ma che ancora non stanno facendo abbastanza per diventare circolari le aziende inconsapevoli che stanno mettendo un certo impegno verso la transizione circolare ma allo stesso tempo non hanno ancora una grande potenzialità del loro modello di business infine i campioni cioè coloro che hanno sia una grande potenzialità del modello di business sia un impegno piuttosto elevato verso la transizione circolare e infine abbiamo dato qualche indicazione per effettuare dei miglioramenti quindi per ad esempio spostarsi da coloro che sono attualmente disinteressati verso gli inattivi quindi agendo sul migliorare la potenzialità del proprio modello di business e alcune indicazioni sono relative all'analisi del contesto l'identificazione dell'opportunità di business non sfruttate quindi tutto parte da capire quali sono le opportunità che sono generate dai propri clienti ma anche fare benchmarking rispetto all'iniziativa circolare dei competiti cosa stanno facendo le altre aziende nel nostro settore in merito all'economia circolare o alla sostenibilità in generale identificare nuovi segmenti clientela generare opportunità per ottimizzare i processi e per ottimizzare le attività che sono nel core business abbiamo identificato alcuni suggerimenti per spostarsi invece dai inattivi a campioni quindi fare degli investimenti anche per supportare questa transizione verso la sostenibilità assumendo personale dedicato facendo scouting di bandi finanziamenti visto che il tema dei finanziamenti è una barriera molto rilevante collaborare con altri attori del settore collaborare con universitanti di ricerca e associazioni e qui non sto assolutamente portando acqua al nostro mulino ma in generale abbiamo visto che è qualcosa che funziona per i campioni lanciare progetti pilota legati all'economia circolare creare una cultura per l'economia circolare quindi cercare di coinvolgere clienti fornitori dipendenti affinché loro stessi credano maggiormente nell'economia circolare e nella sostenibilità abbiamo identificato alcune iniziative che possono essere utili per chi è inconsapevole che quindi non sa ancora che ci sono potenzialità del proprio modello di business e spostarli farli spostare verso i campioni quindi farli mappare il contesto tramite una mappatura degli stakeholder comunicare meglio le proprie iniziative circolari e sostenibili creare una cultura ancora una volta di economia circolare per la società e non solo per i clienti innovare il modello di business e i propri prodotti e servizi tramite una differenziazione dei prodotti e dei servizi in ottica più sostenibile cercare di appropriarsi del valore sostenibile che inconsapevolmente è stato creato da queste aziende e sono sicura che tutti coloro che ci stanno ascoltando creano già del valore sostenibile in modo inconsapevole e infine non ci siamo fermati qui perché abbiamo cercato anche di dare dei suggerimenti e alle aziende campioni perché non ci si ferma mai il percorso verso l'economia circolare e verso la sostenibilità è un percorso continuo che ci porta continuamente a migliorare e a diciamo a trovare delle innovazioni delle nuove idee che ci possono essere ci possono rendere sempre più sempre più sostenibili anche perché le regolamentazioni e le richieste esterne diventano sempre più pressanti sempre più esigenti quindi non ci si può mai fermare quindi le iniziative per questo tipo di aziende per diventare ancora migliori riguardano la comunicazione delle iniziative circolari la creazione di una cultura per l'economia circolare valutare di richiedere certificazioni di sostenibilità effettuare un'analisi di materialità con i propri stakeholder e collaborare maggiormente a livello di filiera soprattutto con i clienti e diciamo questo conclude un po' ciò che volevo raccontarvi in merito anche al progetto che abbiamo seguito nel contesto delle aziende manifatturiere e per concludere questa diciamo questa mia presentazione avrei piacere di chiedere a voi cosa differenzia le imprese dell'ICT rispetto alle imprese manifatturiere per quanto riguarda l'implementazione del concetto di sostenibilità l'implementazione del concetto di sostenibilità e quindi vi chiedo di collegarvi o scansionando il QR code o connettendo via slido.com e digitando il codice che vedete qui proiettato e fornire una vostra risposta lascerò ovviamente questo diciamo questa modalità di interazione aperta anche per i prossimi minuti intanto che magari passiamo alle domande e risposte in modo che possano poi rimanervi anche queste risposte all'interno delle slide che riceverete a valle di questo webinar quindi vi invito da un lato a rispondere a questa domanda che vi sto ponendo e dall'altro se invece avete domande in generale sulla presentazione a condividerle all'interno della chat intanto vi ringrazio moltissimo per l'attenzione grazie Alba Chiara per questa bella presentazione questo è il bel inquadramento dell'argomento abbiamo già la prima domanda che dice in che senso la servitizzazione è un modello di business più sostenibile puoi approfondire ci puoi spiegare perché magari conviene prendere qualcosa noleggio piuttosto che comprarlo ma vai continua assolutamente ottima domanda allora la servitizzazione per sua natura cerca di associare al prodotto che viene venduto anche un servizio quindi forse pensato anche più per un prodotto fisico però in generale in questo modo si fidelizza il cliente il cliente al termine del servizio restituirà il prodotto e in questo modo si riuscirà poi anche a recuperare il prodotto a fine vita e poterlo riutilizzare e reinserire all'interno del ciclo produttivo quindi nell'ambito manifatturiero è assolutamente più sostenibile nell'ambito dei servizi ad esempio può essere un modo per non lo so immagino ottimizzare il il software in un modo che tenga conto magari anche delle tematiche di sostenibilità piuttosto che riuscire a mantenere la manutenzione del software in un momento successivo quindi fidelizzare il cliente mantenere la relazione con il cliente e riuscire anche a sfruttare opportunità di recuperare eventuali rifiuti prodotti e ottimizzare anche i consumi ok le aziende di servizi non fanno scatti siete sicuri era provocatoria probabilmente era provocatoria rifiuti o materiale credo ci sia semplicemente un preconcetto di sicuro il tema dei rifiuti che le aziende di servizi producono in maniera minore ma anche l'energia consumata è un'azienda di servizi molto minore assolutamente d'accordissimo l'impatto è sicuramente minore però ci sono comunque dei piccoli accorgimenti che possono essere presi per ridurre anche quei pochi impatti e no scatti ce ne sono comunque magari non nelle attività primarie magari nelle attività secondarie ci possono essere comunque impatti ad esempio nei trasporti o in come si gestiscono le risorse umane diciamo ok non vedo altre domande per cui non so se qualcuno sta scrivendo o sta aggiornando direi direi Alba Chiara che possiamo proseguire ecco con l'ultimo slide ok questo rimarrà comunque aperto anche al termine quindi se volete continuare a digitare torna sicuramente utile per capire maggiormente qual è la differenza tra le aziende servizi e le aziende manifatturiere ma ne discuteremo poi anche nel prossimo incontro qui c'erano semplicemente i miei riferimenti e un ultimo recap dei prossimi dei prossimi incontri che lascio a questo punto fare a te Paolo ecco vi ricordo come vi accennavo all'inizio che il 30 novembre alle 17 c'è il webinar conclusivo di questo ciclo in cui condivideremo le best practices e presenteremo il risultato dell'assessment e quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione grazie ancora a te Alba Chiara per averci dato questo quadro in maniera così sintetica e completa e e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo webinar una buona serata a tutti voi grazie